Ben ritrovati amici di The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo del Porto. Continua il nostro viaggio attraverso i vini licorosi e fortificati. Se la scorsa puntata abbiamo fatto tappa in Sicilia alla scoperta del Marsala, oggi andiamo con la nostra vista verso l'Oceano Atlantico e parleremo del Porto, questo vino portoghese molto conosciuto che fa parte anch'esso della famiglia dei vini licorosi o fortificati. Il Porto in realtà però non è originario della città di Oporto che appunto è la città che dà il nome a questo vino che è oltretutto una realtà portuale molto importante nel Portogallo, ma in realtà viene da una zona un po' più a monte, se così si può dire, cioè nella Valle del Douro che è un fiume che attraversa appunto il Portogallo e che poi sfocia nella città di Porto e la zona di origine del vino si trova all'incirca 100 chilometri a nord di questa città. Qui su terreni di origine vulcanica e granitica e beneficiando anche delle correnti che arrivano dal vicino oceano si producono diversi tipi di uve tra i quali ricordiamo il tinta barroca, il tinta cao, il tempranillo e il turiga e da queste uve appunto otteniamo il vino base che poi addizionato con alcol e che viene ottenuto tramite la produzione di acquavite sempre locale, può essere avviato all'affidamento in botti di legno per ottenere il nostro vino Porto. Anche per questo vino, come abbiamo visto, per il Marsala è soprattutto merito degli inglesi se oggi possiamo degustare questa bevanda. Infatti il motivo è un po' lo stesso che avevamo visto nella puntata precedente, cioè le guerre tra francesi e inglesi, gli inglesi sono sempre stati grandi estimatori del vino francese ma essendo appunto in guerra non potevano beneficiarne proprio per via del blocco messo dalle esportazioni di vino francese e quindi pertanto gli inglesi si erano ingegnati per trovare dei vini delle caratteristiche simili da poter proporre sulle loro tavole e qui cadde l'attenzione su questi vini portoghesi che avevano qualità gustative simili ad alcuni vini bordolesi prodotti in Francia. Però c'era un problema, bisognava affrontare il viaggio ipermare per portarli appunto dal Portogallo verso l'Inghilterra e qui quindi veniva aggiunta l'acquavite, quindi venivano fortificati un po' con lo stesso procedimento che abbiamo visto per il Marsala in modo che non subissero dei danni che derivavano dal trasporto tra cui ad esempio il contatto con l'acqua salmastra oppure con l'ossigeno. Ed ecco che questi vini ebbero un grande successo in Inghilterra e addirittura alcune famiglie inglesi si spostarono in Portogallo per cominciare a produrre questo vino e infatti non a caso potete vedere anche con i vostri occhi che diverse etichette di nomi di vini portoghesi riportano in realtà appunto nomi inglesi, quindi cognomi inglesi come ad esempio Sandeman, Graham, Offley e Taylor che sono fra le etichette più conosciute, come Fama e come Nomea. Poi come abbiamo visto per il Marsala anche il porto ha diverse tipologie di prodotto, quindi si divide in sostanzialmente tre tipologie principali che sono il porto bianco, il porto ruby e il porto toni e poi dopo abbiamo tutte le varie derivazioni che sono degli affinamenti o delle diciamo particolarità rispetto a queste tre tipologie base, tra cui in questa puntata parleremo del Little Battle Vintage, del porto Coelita, del toni invecchiato con indicazione di età e del porto vintage. Quindi a partendo dalle prime tre, quindi dei tre diciamo porto base abbiamo il primo che è il porto bianco che nasce appunto da uve a bacca bianca e si gusta normalmente giovane e quindi ha un sapore diciamo più fruttato rispetto alle altre tipologie di porto. Inoltre questo è l'unico che prevede delle distinzioni per dolcezza, quindi avremo il porto bianco semisecco, secco e dolce, quindi a solo questo porto ha un'indicazione anche dei livelli di dolcezza che ricordiamo sempre il grado zuccherino residuo che ci si viene a trovare nella bottiglia dopo la fermentazione. Abbiamo poi invece il porto rubi che invece nasce dal vino rosso che viene posto in affinamento in grandi botti di legno di quercia. In questo modo mantiene le caratteristiche dei vini più giovani, visto il minore contatto con l'ossigeno e quindi esalta a sua volta le note fruttate e il colore che diventa di un rubino intenso e da qui appunto il nome rubi. Il porto Tony invece è una sorta di variazione sul rubi, se così possiamo dire, perché il vino di base è praticamente lo stesso, ma in questo caso dopo tre anni di botte grande viene passato in barrique, quindi con una maggiore ossigenazione, quindi qui il colore prende una caratteristica più ambrata e il vino assume delle connotazioni più speziate. E quindi questi tre, abbiamo visto, sono i tre porto base da cui abbiamo delle varie evoluzioni per così dire, a seconda del come viene trattato soprattutto in ottica di invecchiamento. Partiamo ad esempio dal porto reserva che è ottenuto dalle tipologie di porto viste in precedenza, quindi c'è sia un fatto con il rubi, con il Tony o con il bianco, che però in questo caso subiscono un invecchiamento ancora più lungo, solitamente minimo di sette anni, quindi che regala principalmente le caratteristiche legate alla microossigenazione e all'affinamento in botte, quindi è a contatto con il legno, quindi sempre le note diciamo dei sentori particolari, magari più tostati. Ecco, solitamente però questo tipo di porto, nella stragrande maggioranza dei casi, seppur si possa potenzialmente fare con tutte e tre le tipologie, è più frequente nella versione rubi, anche perché il rosso si presta maggiormente a invecchiamenti più lunghi. Abbiamo poi il late bottle vintage, che è un porto rubi di una sola annata particolarmente riuscita, che è quindi diciamo di caratteristiche di qualità ritenute valide dal produttore, che viene invecchiato poi dai 4 a 6 anni e poi imbottigliato. Questo vino si presenta sia nella versione filtrata, che manterrà quindi le sue caratteristiche inalterate nel tempo, di fatto la filtrazione blocca il vino all'interno della bottiglia e così rimarrà per tutta la sua durata, oppure anche nella versione non filtrata, dove il fondo che rimane di questi vini continuerà a far evolvere in bottiglia, nell'affinamento in bottiglia questi vini e quindi può essere che, una volta andati ad aprire, possano assumere delle caratteristiche e dei toni più evoluti. Quindi qui, a seconda del gusto o dell'intenzione del produttore, si sceglie una via oppure un'altra. Il portocoilita invece è un toni, in questo caso quindi parliamo di un vino più ambrato, di colore piambrato, di una sola annata che è invecchiato in barrique per 7-8 anni. Questo passaggio aumenta l'intensità dei sapori e dei sentori, con però un'evoluzione che si arresta una volta imbottigliato. Quindi di fatto è, come abbiamo visto per il Little Bot Vintage filtrato, una volta uscito, per così dire, dalla barrique, viene imbottigliato e così si mantiene lungamente nel tempo. Passiamo invece al toni invecchiato con indicazione di età, realizzato tramite una tecnica di assemblaggio di vini di varie annate, che viene scelto da ogni cantina, quindi ogni cantina ha la sua, per così dire, miscela e viene, quindi cosa si fa? Si rabboccano delle botti di queste miscele e vanno ad allungarsi la durata dell'invecchiamento di questo vino. Di fatto si hanno normalmente età che vanno in decadi, quindi abbiamo degli invecchiamenti di 10 anni, 20 anni, 30 anni e oltre i 40. In realtà poi queste indicazioni di età non sono proprio precise, ma vanno prese come una media tra i vari vini che sono stati utilizzati per la produzione della miscela, usate quelli rabbocchi. Quindi c'è poi una regolamentazione di queste miscele, però chiaramente è una media e non è che tutti i vini contenuti, tutti i vini che sono stati utilizzati per produrre quella miscela abbiano il pari livello di invecchiamento. Sono vini piuttosto rari, soprattutto nelle annate, diciamo, quelle più lunghe, quindi quelli trentennali e quarantennali, anche come produzione, come potete ben capire, viaggiamo su quantità molto limitate. Infine arriviamo alla punta di diamante, se così si può dire, del porto, che è il porto vintage. Intanto bisogna dire che questa tipologia non è prodotta in tutte le annate, ma soltanto quando il consorzio di tutela del porto giudica la vendemmia e la qualità finale del vino adatta a questo scopo. Quindi già qui si capisce che è un vino particolarmente raro e quindi anche con una produzione molto limitata. Le uve, quindi, abbiamo detto, sono di una singola annata e dopo aver fatto un passaggio in botte di almeno due anni, vengono lasciate affinare in bottiglia per tempi molto lunghi, che possono arrivare anche fino a 50 anni. Qualcuno dice anche che ci sia qualche bottiglia che raggiunga anche il secolo, poi qui chiaramente un po' a volte si va nel, come dire, nel mito, nella leggenda, però diciamo che sicuramente in commercio si trovano vintage con affinamenti in bottiglia di 50 anni. Il limite però, diciamo, universalmente, se così si può dire, riconosciuto per apprezzare questo vino nel meglio delle sue caratteristiche, è attorno ai 20 anni di affinamento. Quindi, come potete capire, è anche un grande investimento per una cantina che lo produce, perché ovviamente lo produce oggi, ma i frutti, fra virgolette, di questo vino li vedrà e li potrà, diciamo, apprezzare solamente dopo almeno 20 anni di invecchiamento. Quindi è un investimento a lunghissima scadenza e questo giustifica da una parte il suo prestigio, ma dall'altra anche un costo elevato, proprio perché appunto c'è una lunga attesa per poi poter rientrare dell'investimento fatto della cantina. È un vino che, assaggiandolo, ha delle sfumature molto particolari e, per così dire, uniche, proprio perché è proprio stato scelto, è frutto di quell'annata, è molto figlio dell'annata del vino, quindi è difficile anche compararli tra di loro, soprattutto quelli di annate diverse, proprio perché la scelta non è di tutti gli anni, ma è appunto sulla base di quello che viene deciso dal Consorzio di tutela, però possiamo dire che se volete fare una pazzia e volete provare qualche cosa di diverso, questo sicuramente è un vino almeno una volta nella vita da assaggiare. Quindi abbiamo visto il Portogallo, si dimostra anche lui, un grande produttore di vini fortificati, con una grande storia, una varietà di scelta molto ampia, figlia anche dei, sia da una parte dei tempi che dei gusti che sono diventati via via più esigenti. Chiaramente in questa puntata non vi ho raccontato nel dettaglio tutte le tipologie, ce ne sono ancora molte altre, ci sono anche varie tipologie di invecchiamento, scelte di cantine diverse. Chiaramente questa era solo una puntata per darvi una visione un po' generale, un po' a grandi linee di questo prodotto, però come sempre la realtà è poi molto più ampia, soprattutto dove ci sono vini che molto spesso sono figli di scelte delle singole cantine e non di disciplinari di produzione molto rigidi. Ogni tanto anche qualche cantina propone qualche prodotto un po' diverso dal solito proprio per inventare qualche cosa di nuovo. Questo è quello che succede anche un po' qui da noi quando si esce dai disciplinari delle varie DOCG e delle varie DOC, alcune cantine provano a fare qualche esperimento e così anche il porto si presta molto a queste tipologie di prove e così dire di prove ed errori. Magari quello che posso consigliarvi è, detto che molto spesso al supermercato potrete trovare le varie del porto, ma ovviamente sono le marche più commerciali e magari quelle anche qualitativamente non superlative per non usare altri termini, però magari se vi capita la possibilità, mandando in enoteca oppure vi regalano una bottiglia di porto di un certo tipo, provatelo, assaggiatelo e magari adesso quando si potrà adesso per il momento, al momento non è ancora diciamo così possibile o comunque così consigliabile fare dei viaggi in terra straniera, però se vi capiterà di andare a fare un tour del portogallo sicuramente quello può essere un buon motivo per andare a degustare, a incontrare i loghi di produzione del porto e ad andare a assaggiare questo che può considerarsi anche quasi come un pezzo di storia molto importante del vino. Bene, e anche per oggi il nostro viaggio alla scoperta dei vini fortificati liquorosi termina qui, però come sempre se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche perplessità oppure qualche chiarimento da chiedere sul porto, ma così su qualsiasi altra puntata, qui sotto nei commenti potete farmi tutte le vostre domande, magari se anche scrivete l'hashtag AskTheWine questo mi permette di intercettarla ancora meglio e di rispondervi ancora più prontamente. Vi ringrazio per tutte le visualizzazioni e per tutti anche gli iscritti, era un po' che non facevo dei video e quindi approfitto per ringraziare di tutti quelli che si sono iscritti finora, siamo arrivati al traguardo degli 800 iscritti al canale che solo un anno e mezzo fa per me era un numero, come dire, irraggiungibile. Vi ringrazio, continuate a condividere questi video, chiaramente se vi piacciono, se vi ritenete interessante con amici, parenti, conoscenti e con tutti coloro che possono apprezzare il mondo del vino per aumentare le nostre conoscenze. E come sempre vi saluto ricordandovi le solite fondamentali regole della casa il fatto che non bisogna bere il vino se si è minore di 18 anni e non va soprattutto bevuto prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Anche per oggi quindi ci salutiamo qui un ciao da Francesco e arrivederci alla prossima puntata qui su The Wine Channel